Ciao ragazze, allora ho la postazione pronta perché volevo farvi vedere gli acquisti fatti dal sito Beauty Space Nail che vedete qui sul tablet. Ci tenevo a precisare che adesso l'offerta in corso è diversa e avete un 60% di sconto sui gel color. Quelli che ho acquistato io li ho acquistati con una promo diversa perché li ho acquistati diciamo nel periodo della festa del papà. Voglio farveli vedere lo stesso perché mi avete scritto e mi avete detto che volevate vedere il video su Instagram e quindi vi faccio un piccolo diciamo haul tra virgolette. Ho preso il liquido per l'acrigel per chi non ha visto l'altro video vi rimando all'altro video. Non c'era ancora il liquido per l'acrigel quindi non l'ho acquistato ma l'ho provato con il cleaner e avevo voglia di più che voglia ero curiosa di provare. La modellazione dell'acrigel con il suo liquido e quindi l'ho voluto acquistare. Poi ancora sempre per quanto riguarda l'acrigel ho preso uno dei nuovi colori usciti che è il cover glitter. Ve lo faccio vedere ed è meraviglioso. Eccolo qui e ve lo avvicino. Ci sono dei micro glitter che non so se sono percepibili in video ma davvero davvero bello. Poi ho acquistato due costruttori perché erano in offerta nel periodo in cui ho fatto io l'acquisto. Era in offerta mi sembra sia l'acrigel che i costruttori quindi tutti i costruttori. E ho voluto provare il fiberglass e il miracle skin. Il miracle skin è così. È molto morbido da lavorare ma non... Allo stesso tempo non cola. Ve lo faccio vedere. Vedete, rimane abbastanza fermo e stabile. Vedete? Comunque ha... Una viscosità a media. E ha un bellissimo color rosa. Il fiberglass invece è quello con all'interno, come dice la parola stessa, le fibre di vetro. E mi ha incuriosito tanto. Il rosa è leggermente più cipriato rispetto all'altro. E vi faccio vedere... Anche questo ha una media viscosità, almeno per come la intendo io. Se lo spostate all'interno vedete dei grumi. Sono appunto le fibre di vetro che contiene questo, vedete come regge, come rimane collegato, ecco. E poi ho acquistato, vabbè, il poggiapennello che devo dire la verità, pensavo fosse inutile. Invece è davvero comodo quando si lavora. Anche perché così non si poggia il pennello nella polvere di limatura. Poi ho acquistato... Io ho acquistato solo questi... Diciamo che i nuovi acquisti sono solo questi qui, questi sei qui. Questi altri ce li avevo e ho preso la palla al bazzo per farveli vedere. La cosa che mi piace di Beauty Space Nail è che ogni volta che fate un acquisto, soprattutto di gel color di queste dimensioni, vi mette tutto in queste scatoline di cartone che vanno a proteggere il gel da eventuali urti. Ho trovato anche i due cover piccolini. Io ho preso quelli piccoli, quelli da 15 ml, proprio perché volevo provarli. Anche questi erano all'interno del cartonato che vi ho fatto vedere. Vi vado a far vedere in primis i tre gel color che ho preso, i paint gel. E vi faccio vedere anche da catalogo che era compreso nell'ordine le altre colorazioni. Allora, queste sono tutte le colorazioni disponibili. Io ne ho prese tre, il nove, il venti ed il quattro. Credo che ci sia forse un errore di stampa, nel senso che il venti è un grigio, ma il grigio qui risulta 19, quindi probabilmente ci sarà un errore di stampa sul barattolino. Ve lo dico semplicemente perché se vi piacciono e volete poi acquistarli, non fate fatica a trovare quello che è il colore giusto. Questi sono i tre gel paint, questi sono stati stesi in due passate sottilissime e hanno già il lucido sopra. Pensavo fossero senza dispersione. A me un po' di dispersione l'hanno lasciata, ma veramente minima, minima, minima. Quindi probabilmente vanno sigillati. Questo non lo so, mi informerò e magari vi scriverò un fumetto, comunque ve lo scriverò nell'info box. Sono dei colori davvero belli e un po' più pastosi dei gel color normali, ovviamente sono gel paint, servono per nail art. Vi faccio vedere la pastosità solo di uno perché poi sono tutti uguali. E quindi riuscite a fare anche un monocolore, ma dovete tirarli molto bene. Vedete? Rimane quasi il solco. Poi, oltre a questi due, ho preso due super color normalissimi. Ho preso il numero 05 e il numero 10. Eccoli qua. Questi sono rispettivamente 05 e 10. Un po' il colore è alterato anche al 10, mentre sui paint si trova perfetto. Però sono entrambi stesi sottilissimi, due passate. E sono coprentissimi. Adesso vi voglio far vedere quelli che avevo acquistato tempo fa nel mio primo ordine Beauty Space Nail, che sono, mettiamoli in ordine di numero perché dovete sapere che io sono un po' sclerata su questa cosa, e ho preso il numero 1, il numero 5 e il numero 115, che sono rispettivamente questi tre colori. Questi, come potete vedere, sono coprentissimi tutti. Anche qui due passate sottilissime e sigillante. Devo dire che questi colori mi piacciono davvero davvero tanto. Questi rispetto, ovviamente, ai paint, vi faccio vedere anche questi, sono più morbidi da stendere. Vedete, è molto più liquida rispetto ai paint, però sono davvero 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 coprenti. Guardate come è pieno e carico di pigmento il colore. E poi vi voglio far vedere questi due gel che mi sono... Questo che ho acquistato e questo che mi è arrivato omaggio nel vecchio ordine. Questo è il French Pink Baseline. Allora, come potete vedere tutti, già le presentano, appena acquistati, questa protezione qui che io vado a rimuovere e a buttare, perché poi successivamente lascerò solo questa. Un rosa lattiginoso, che secondo me può essere utilissimo per la tecnica del baby boomer. Quindi questo. E poi ho comprato, invece, sempre con l'ultimo acquisto, lo Snake Heart Gel, che è quel gel che si apre sull'unghia e fa particolari effetti. Se volete vederlo in azione, fatemelo sapere con un commentino, così cerco di registrarvi qualche video. Magari in questo periodo in cui sono a casa, da scuola. Allora, vi volevo solo far vedere, cercando di non sporcare il tablet, vi volevo far vedere la promo, diciamo, di questo periodo. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato da Beauty Space Nail, ma semplicemente perché i gel dà al prezzo di 5,90€ l'uno, normalmente con questa promo vi vengono 3,95€, quindi sicuramente andrete a risparmiare un bel po' di soldini, ecco, che non fa mai male. Quindi, alla fine, vi basta cliccare qui su Benvenuta Primavera. E poi, scorrendo, trovate, appunto, tutti i gel in offerta. Sono in offerta anche i paint da 4,99€ a 3,95€, quindi quelli là che ho preso io in base. Comunque, sono in offerta tutti, un po' tutti, i gel color. Niente, ragazze, questo è tutto quello che vi volevo far vedere in questo video, quindi vi ho mostrato quelli che sono i miei acquisti. Ah, dimenticavo, ho acquistato anche due ruotine di queste qua con le tip trasparenti che sono fatte in questo modo, tip trasparenti, e sono anche staccabili, come avete visto durante il video. E niente, quindi stavo dicendo, questo è tutto quello che vi volevo mostrare di questi acquisti, che non ho fatto con questa promo, ma che vi consiglio di fare con questa promo, perché comunque li pagate davvero poco, questi gel color. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così, fatemelo sapere con un mi piace. Se non siete iscritti al canale, basta cliccare il tastino iscriviti, e in automatico sarete iscritte. E mi farebbe davvero tanto piacere che questa famiglia crescesse. E niente, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazze!